Ma ciao a tutti! Oggi parliamo del calcio, uno sport che mostra sia lealtà e fedeltà verso i compagni di squadra o da parte dei tifosi verso la loro squadra preferita, ma mostra anche rabbia e a volte scorrettezze senza senso. Dalla rabbia specialmente si scatenano cose assurde come per esempio il lancio di oggetti non identificati in campo che potrebbero rovinare la partita o fare del male ai giocatori. Oggi andremo a vedere proprio gli oggetti più strani mai lanciati su un campo da calcio. Ovviamente ricordatevi prima di fare un saltino sulla pagina di gaming del canale per scoprire tante altre top, ma stavolta sul mondo del gaming. Accendino Ronaldo sicuramente è un giocatore molto amato da tanti, ma altrettanto odiato da altri. Un fatto alquanto scorretto è successo durante la partita tra Real Madrid e l'Atletico Madrid durante la Coppa del Re del 2014. Ormai Real aveva la partita in mano grazie alla doppietta di Ronaldo e mentre stava andando in pausa per il secondo tempo, un tifoso, che a quanto pare a colazione aveva mangiato troppa rabbia, gli ha lanciato un accendino in testa. Fortunatamente nessuno si è fatto male e Cristiano si è giocato altri 30 minuti il secondo tempo prima di essere sostituito per farlo riposare. Anzi, qualcuno si è fatto male e penso sia il tifoso lancia accendini, perché è stato individuato subito dalla sicurezza. Troppi palloni A quanto pare ad alcuni tifosi non va proprio giù che la propria squadra del cuore perda. Anzi, moltissimi oltre a fare delle rivolte senza senso trovano soluzioni più furbe, ma poco divertenti per i giocatori in campo. Per esempio, durante la partita tra il PSV e il Feyenoord, qualcuno ha lanciato un altro pallone in campo cercando di fermare un gol al PSV. Beh, non è sicuro sarebbe stato un gol, ma comunque la statistica distrazione è salita moltissimo per i tifosi del Feyenoord. Ovviamente non imitate mai i loro gesti. Chissà il povero portiere del PSV come è andato in palla. Motorino Mi chiedo in questo caso come sia possibile fare entrare un motorino in uno stadio, ma non sono qui a fare domande, solo a esporre fatti. Quindi magari ditemelo voi. Comunque durante una partita tra Inter e Atalanta, non ricordo bene in quale anno, è successa una cosa scandalosa. Un gruppo di ultra A, Nerazzurri, ha bruciato uno scooter e poi l'ha calciato giù dagli spalti. Non ha raggiunto l'erba per fortuna, altrimenti chissà che fiamme. Ma comunque è stata una cosa pericolosissima da fare. È successo perché un centinaio di Atalantini aveva raggiunto la zona della partita in Motorino e i tifosi interisti avevano deciso di distruggerne una decina e tenerne una per loro per dimostrare sugli spalti chissà cosa. A volte si raggiunge un livello così basso da dimenticare completamente il vero senso degli sport in generale. Ciò è un modo per intrattenere e divertire in modo da uscire almeno in quei pochi attimi dalla vita di tutti i giorni. Palloni giganti Rimanendo in tema palloni, beh parliamo di calcio e dura non nominare i palloni, guardiamo stavolta la partita tra Svizzera e Brasile, valida per la Coppa del Mondo 2018 in Russia. Vi ricordate del portiere del Brasile, cioè Alison Becker? Beh, lui ha tirato il calcio decisivo durante l'evento, scoppiando in modo molto regale un pallone rosso gigante, lanciato lì forse per indispettire qualcuno, chi lo sa. Insomma un vero eroe, credo. Alla fine è finita 1-1 se siete interessati al risultato. Topi Oltre a prendersela con le cose, a volte i tifosi ultra, come detto prima, a colazione mangiano rabbia e tristezza se la prendono pure con le cose viventi e magari morte. Durante una partita tra Brondi e FC Copenaghen, il Brondi stava dominando fino all'85esimo minuto e ormai la partita sembrava agli sgoccioli, ma i tifosi non bastava. Volevano più della vittoria. Prima di tirare un angolo, Ludwig Augustinsson si è visto gettare addosso due topi morti dal nulla. Non aveva fatto niente di male per meritarseli, eppure qualcuno pensava il contrario. Anzi, se li ha portati da casa apposta per queste occasioni quel tifoso. Chissà chi è il malato che si tiene i topi morti per le partite e magari li sceglie di diverse taglie in base all'evento. Alla fine tutto è finito bene e il giocatore li ha calciati lontani e sono stati portati via quei poveri animaletti che di calcio non ne sapevano nulla di sicuro. Giocattoli Vedete questa scena? Tantissime cose lanciate in campo fino a riempire un intero estremo. A prima vista potrebbe sembrare vandalismo, invece non lo è per niente. Non è una brutta cosa, anzi, stavolta si parla di un gesto davvero bello. Prima della partita tra Charles Roy e Ostende, non so se l'ho pronunciato giusto, ai tifosi era stato chiesto di portare dei giocattoli da donare ai bambini meno fortunati, come i regali di Natale, ed è stato un vero successo. A tutti piace lanciare le cose e a tanti piace donare, quindi due piccioni con una fava. Anzi, il calcio di inizio è stato rimandato di un bel po' perché erano davvero tanti i giocattoli e bisognava sgomberare il campo. Bambole Finora abbiamo visto davvero tante cose assurde e a quanto pare non è finita. Durante la partita tra Rosario Central e i Racing, qualche tifoso davvero molto amante delle bambole ha deciso di lanciarne decine e decine in campo. Un bel po' di tifosi del Rosario, se vogliamo dirla tutta. Non ho capito bene perché, ma questo ha costretto all'interruzione della partita per una buona mezz'oretta. Sembrava il giorno del giudizio con neonati che cadevano dal cielo. Alla fine tutto è finito bene e forse un qualche negozio di giocattoli quella sera ha fatto davvero il tutto esaurito, chi lo sa. Eeeh, fermi tutti, un attimino inoino. Diamo la risposta al quiz del video precedente. La ragazza è Tsunaina e ne ho parlato in un video prima ancora se siete interessati, ed è considerata una bellezza unica nel suo genere. Se siete passati dalla pagina di Gaming Ufficiale e dal canale Twitch, andiamo avanti e finiamo questa top piena di cose gettate a terra. Ovviamente voi non dovrete mai fare queste cose, mi raccomando. Banana Un episodio questo sicuramente da ricordare. I tifosi del Villareal sono stati giusto un pochino razzisti in una partita nel 2014 contro il Barcellona. Qualcuno ha lanciato una banana a Dani Alves che però non si è fatto prendere dallo sconforto. La raccolta è mangiata mostrando come non gliene freghi minimamente di quello che la gente pensa di lui, visto che sa di non star commettendo niente di brutto. E poi ovviamente ha i soldi e si diverte, al contrario del tifoso frustrato che sicuramente deve capire la buona educazione. Noccioline Zlatan Ibrahimovic è veramente un giocatore a parte. L'ultima prova l'ha data durante la partita contro il Bastia. L'attaccante del PSG è fermo in area di rigore quando dagli spalti arriva in campo un sacchetto di arachidi. Ma Ibra non si scompone e più convinto che mai e con nonchalance decide di prenderne una e mangiarla. A lui non frega niente se è stato lanciato per cattiveria il sacchetto. Il cibo è cibo e se c'è la possibilità di recuperare un attimo lo si fa e basta. Palline da tennis Non seguo moltissimo il calcio, ma da quello che ho capito in questo caso il lancio delle palline in campo è stata una protesta da parte dei tifosi, che ormai non vengono più ascoltati da nessuno per dare vantaggio alle grandi multinazionali televisive. È accaduto durante la partita tra Nuremberg e Borussia Dortmund. I tifosi hanno lanciato un sacco di palline da tennis nere in campo. A essere coinvolto maggiormente è stato il giovane Sancio, che d'ora in poi dovrà sicuramente portarsi un ombrello per sicurezza. Comunque i tifosi lo hanno fatto per protestare contro il Monday Night, un evento serale del lunedì in cui vengono trasmesse partite di calcio importanti. In Europa, a quanto pare, non piace moltissimo questa cosa. E non è la prima volta che si protesta. Alla fine il Bundesliga verrà tolto dal Monday Night e nessuno si è fatto seriamente male, per fortuna. Soldi Vi ricordate di Donna Rumma? Il portiere più giovane ad aver raggiunto le 100 partite in Serie A? E dello scandalo del rinnovo? Vi rinfresco la memoria. Aveva deciso di non rinnovare con il Milan nel 2017, facendo concludere il suo contratto nel 2018. E poi sono successe tante cose che non sto qua a spiegarvi. Questo aveva fatto davvero molto scandalo, scatenando l'ira di moltissimi tifosi. Alcuni hanno cominciato a prenderlo in giro, chiamandolo Dollar Rumma. Altri invece ci sono andati giù ancora più pesanti. Durante una partita negli Under 21 in Cracovia si è dapprima sentito fischiare ogni volta che toccava il pallone, e poi gli hanno lanciato addosso dei soldi finti. Sì, soldi finti per far capire che era un comprato o altro. Non è sicuramente così che bisogna prendersela per fatti del genere. Immaginate un ragazzo appena maggiorenne che subisce certe cose in campo. Aeroplanino di carta. Se ci provasse altre 100 volte potrebbe non succedere di nuovo il miracolo che un tifoso inglese molto annuiato è riuscito a compiere. Lanciare un aeroplanino di carta dagli spalti è colpire addirittura un giocatore. Fortunatamente non in modo grave. Il tutto è successo durante un amichevole tra Inghilterra e Peru, e il giocatore colpito era Hansel Johans. I tifosi di casa dell'Inghilterra hanno esultato come se fosse stato un gol e alla fine il match è finito 3-0. Insomma, non un bellissimo gesto. Eppure il video in quel periodo era diventato virale facendo 3 milioni di views in una settimana. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte ma molte più cose di noi. Circa il 40% in più. Film o telefilm unici che non vedremo mai. A meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua. Di ogni genere di paese! Utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune! L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Firestick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione. 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Con questo concludiamo. Che dire, a volte alcuni non riescono proprio a trattenersi e devono fare le stupidate più incredibili, come lanciare oggetti in campo senza coscienza. Noi per oggi finiamo ma ci risentiamo con un'altra top molto presto. E se volete seguirmi e vedermi giocare o chattare con me andate su Twitch. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.